musica musica ah dice non prendiamo un caffè? ma si prendiamo un iluscinetto ah no che c'è un barato prendiamo un scegna rossa mi ma te lo sconti che avviciniamo ma no ma no ma come dicevo fare una scena a vetto metto un altro non si può subitiare e qui ci arriva troppo e qui ci arriva e qui ci viene a sinistra a destra a sinistra a destra e qui? Dei modo, direzione, ma che te posso pigliare!